molto tempo fa in un piccolo villaggio della toscana viveva un bambino chiamato leonardo leonardo era molto curioso e amava guardare attentamente il mondo che lo circondava quando vedeva un uccello volare un fiore sbocciare o una farfalla posarsi su un fiore si chiedeva sempre come funzionasse tutto leonardo aveva anche un grande talento amava disegnare e dipingere passava ore seduto sul prato a disegnare tutto ciò che vedeva intorno a sé i suoi disegni erano così belli che tutti quelli che li vedevano rimanevano stupiti e addirittura il suo maestro aveva smesso di dipingere quando si era accorto che il suo allievo era migliore di lui leonardo continuò a disegnare e dipingere ma iniziò anche a studiare l'anatomia e sfruttò i suoi studi sulla natura per progettare macchine volanti e tanti altri strumenti era sempre così concentrato sul suo lavoro che spesso dimenticava di mangiare e dormire le persone in tutto il paese iniziarono a chiamare leonardo il genio universale era un artista un inventore e uno scienziato tutto in uno ma leonardo era anche un uomo gentile e amava aiutare le persone spesso aiutava gli animali feriti o i poveri che non avevano abbastanza da mangiare un giorno il re di francia che aveva saputo della bravura di leonardo lo invitò a trasferirsi nel suo regno per realizzare opere d'arte e invenzioni per lui leonardo accettò e trascorse gli ultimi anni della sua vita continuando a lavorare sui suoi progetti e a dipingere nel grande palazzo che il re gli aveva donato questa di leonardo da vinci è una storia di curiosità talento e bontà che ci insegna a guardare il mondo con occhi attenti a sviluppare i nostri talenti ma anche a essere gentili con gli altri